OLE! Via! E' più giusto! Non sei matti? Un attimo! Sta parlando di tutto! Eh lo so! Stesso problema anche nell'altra! E' da pazzesca! Beh qui è normale eh! Cazzo pretendi! Vuoi chiudere anche questo? Vai tranquillo! Eh guarda! Ma tanto a me non cambia il cazzo! Spigi cazzo! Poverina! Guarda che... Non posso dire neanche di presto la mia perché poi magari mi dice di sì! Sì! E magari sulla mia si diverte anche di più! Appunto! Vabbè dai quando hai finito con questa andiamo a prendere una coppa! Andiamo a prendergli pizza! Andiamo a prendergli pizza! Bueno se sono avvenuta un po' almeno offerta! Vai c'è quello che si tocca! Opa! No! 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 Oh, dai, 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 dai. Ops, data 4.31 O i tempi, ti do quelli del giro Aspetta, aspetta che un'occhiattina ai freni Adesso andiamo Aspetta, aspetta Simo, guarda che ne hai uno solo Basta, un altro giro e basta Sono arrivati, cazzo Aspetta, vai Grazie a tutti Grazie a tutti